Era un bellissimo, bravo ragazzo. Mi dispiace anche a me. Sono cose che non dovrebbero capitare. Io che sono anziano, che ho visto la guerra, vedendo queste cose mi viene da piangere. Aveva 19 anni e un sogno. Per questo Gioele Leotta era partito da Nibionno in provincia di Lecco insieme ad un amico per l'Inghilterra. Voleva imparare l'inglese, lavorare e costruirsi un futuro. Invece ha trovato una morte orribile. È stato ucciso a pugni e a calci da un gruppo di ragazzi del posto. Non è ancora certo se inglesi o stranieri che avrebbero accusato i due italiani di rubare il lavoro. Una legge, non le sento che dicono polacchi e inglesi. Non sappiamo ancora niente. La polizia ai suoi genitori ha detto che assolutamente adesso non c'è ancora... è una cosa forse sentita là, non so da chi, da cosa. Comunque non sanno ancora niente. Gioele Leotta si era trasferito da due settimane a Madison nel Kent, 50 chilometri da Londra, dove aveva trovato lavoro come cameriere in una pizzeria della zona insieme ad un amico, Alex Galbiati. Secondo le prime ricostruzioni, al termine del turno di lavoro, dopo un diverbio nel locale con nove giovani del posto, sarebbero stati raggiunti nel loro alloggio e massacrati di botte. Gioele è deceduto in ospedale. L'amico ha subito lesioni, ma è fuori pericolo. Gli aggressori sono stati fermati dalla polizia inglese. I familiari di Gioele sono partiti per il Kent. Al loro rientro, nel giorno del funerale a Nibionno, sarà lutto cittadino. Ho degli amici in Facebook, che sono comuni ad entrambi, i quali fin da ieri sera hanno postato molti messaggi di cordoglio e di vicinanza. Ne odio, ne violenza, ne andiamo a fargliela pagare, ne sono quello che sono. Veramente un plauso a questi ragazzi che, nella tragedia, hanno dimostrato di essere veramente maturi ed in gamba.